Quali sono le novità più interessanti, i dati più importanti presentati quest'anno a Madrid al congresso della società europea di oncologia medica per quanto riguarda il trattamento del tumore del polmone nella piccole cellule in stadio iniziale? Noi l'abbiamo chiesto un'esperta la dottoressa Floriana Morgillo che abbiamo incontrato a Napoli dove oggi si è svolto il convegno Postesmo Italy 2023, un appuntamento organizzato da Women for Oncology Italy per fare proprio il punto sulle novità più significative che sono giunte quest'anno dal congresso europeo di oncologia. Professoressa parliamo quindi di studi sul tumore del polmone in stadio iniziale, sicuramente lo studio più importante presentato appunto durante la sessione presidenziale è lo studio Alina che ha visto come protagonista un farmaco che si chiama Alectib, ci racconta un po' più in dettaglio diciamo che cos'è questo studio, qual è il risultato principale e qual è l'importanza di questo studio, perché è così importante? Lo studio Alina è uno studio clinico di fase 3 che ha ruolato pazienti affetti da cancro del polmone non a piccole cellule sottoposte a resezione chirurgica della malattia perché in stadi precoci e li ha randomizzati a ricevere l'inibitore di ALC, Alectinib, inibitore dell'attività tirosino-kinasica di questo recettore verso lo standard di trattamento che è rappresentato dalla chemioterapia adiuvante. I risultati incoraggiano l'utilizzo dell'inibitore di ALC nel post-operatorio in quanto hanno offerto una riduzione del 76% della probabilità di ricaduta per la malattia rispetto invece alla sola chemioterapia che ha dimostrato negli studi passati un vantaggio in termini di overall survival ma molto marginale, siamo intorno al 5%, a 5 anni. Quindi era necessario un miglioramento della prognosi e dell'outcome in questo sottogruppo di pazienti che finalmente ricevono un trattamento diretto contro il meccanismo patogenetico della loro malattia. E quindi dato che questo farmaco come lei ci diceva è un inibitore di ALC, i pazienti a cui si rivolge sono pazienti diciamo che presentano le alterazioni del gene ALC? Sì, infatti è sempre più necessario tipizzare dal punto di vista molecolare la malattia polmonare non a piccole cellule soprattutto anche negli stadi precoci insieme alla tipizzazione delle GFR, abbiamo un trattamento adiuvante contro le GFR che è l'osimertinib, insieme anche alla espressione del PDL1, abbiamo immunoterapia nei pazienti che lo peresprimono, abbiamo anche adesso la necessità di tipizzare il gene ALC per le sue traslocazioni. Un altro studio sicuramente importante che riguarda la cura del tumore del polmone in stadio precoce, presentato anch'esso in una sessione presidenziale, è lo studio Checkmate 77T. Ci racconta di che cosa si tratta, quali sono i dati e qual è la loro rilevanza? Sì, il Checkmate 77T si dedica all'approccio perioperatorio nel cancro del polmone che non ha piccole cellule, che non presenti alterazioni molecolari. In genere ha arruolato pazienti in stadio fra il secondo e il terzo e li ha randomizzati a ricevere chemioterapia insieme al nivolumab rispetto alla sola chemioterapia, quindi andavano a trattamento chirurgico e nel postoperatorio vi era il confronto rispettivo fra il consolidamento con il nivolumab verso il placebo. Lo studio è uno studio positivo, il suo obiettivo principale è la sopravvivenza libera da ricaduta e questa vede un incremento significativo, abbiamo una riduzione del rischio di ricaduta pari a circa il 41%. Ovviamente dobbiamo aspettare i risultati di overall survival, ma anche questo studio si colloca nella serie di tutti gli altri studi del perioperatorio che stanno dando risultati estremamente incoraggianti. A proposito di trattamento perioperatorio, un altro studio importante presentato quest'anno a Madrid in cui si utilizza l'immunoterapia nel setting perioperatorio, quindi prima e dopo l'intervento chirurgico, è lo studio Keynote 671. Ci racconta un po' più in dettaglio di che cosa si tratta? Il Keynote 671, studio clinico di fase 3, ha arruolato pazienti sempre con malattia localizzata, a stadio 2 e 3, candidati a chirurgia ad un trattamento preoperatorio di associazione con Pembrolizumab e chemioterapia verso la chemioterapia, quindi alla chirurgia e quindi a un trattamento di consolidamento postoperatorio nel braccio sperimentale con il Pembrolizumab. Avevamo già avuto i risultati iniziali di questo studio in termini di sopravvivenza libera dai venti, che era sovrapponibile a quella del Checkmate 77T, quindi avevamo una riduzione che arrivava anche al 40-42% nel rischio di ricaduta. Abbiamo ascoltato all'ESMOV i primi dati sul vantaggio in termini di sopravvivenza globale, quindi questo è il primo studio di perioperatorio che ci porta a questi risultati, riduzione di circa il 20% sul rischio di morte da un approccio perioperatorio, quindi pre e post chirurgia. Professoressa, questi studi che lei ci ha appena descritto sono studi che cambieranno la vostra pratica clinica? Senz'altro cambieranno la nostra pratica clinica, abbiamo tante opportunità terapeutiche ad oggi, il tutto però deve essere concertato nell'ottica di un approccio multidisciplinare di colloquio con il chirurgo e anche con il patologo e il biologo molecolare, perché la decisione del trattamento e del percorso terapeutico del paziente dovrà essere stabilita in partenza in base al profilo molecolare e alla operabilità dello stesso.